Saracinesche abbassate, bandiere a mezz'asta, sabato 13 aprile è stato il giorno del dolore e del lutto per San Marsano di San Giuseppe, dove nella chiesa San Carlo Borromeo si sono celebrati i funerali di Angelo Cotugno. L'operaio 59enne è folgorato da una scossa elettrica lo scorso 9 aprile, mentre stava operando in un cantiere stradale sulla Tarantoa Vetrana. Il cordoglio dei familiari ha accompagnato il lutto cittadino disposto dal sindaco Francesco Leo. L'ultimo viaggio di Angelo è avvenuto tra centinaia di persone che hanno gremito la chiesa. Tanta commozione ma anche la consapevolezza che le parole oramai lasciano il loro tempo. Occorrerebbero invece azioni concrete, visto che poche ore dopo l'incidente mortale di Angelo dello scorso 9 aprile, il concittadino Mario Pisano di 73 anni ha perduto la vita, sempre sul luogo di lavoro, ma altrove nella catastrofe avvenuta a seguito dell'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana in provincia di Bologna. La città dovrà dunque fare nuovamente conti con il dolore. All'uscita dalla chiesa il ferretro viene accompagnato dai familiari, ad attenderlo fuori tra gli altri. Anche il sindaco e il dirigente regionale Inail con cittadino Giuseppe Gigante. Un applauso si leva dal sagrato. Una scena che purtroppo i cittadini dovranno ripetere per i funerali di Pisano, perché se i nomi di Angelo e Mario saranno ricordati dall'affetto di chi ha voluto loro bene, dall'altro sono nuovi numeri di una tragica contabilità.